Visite gratuite ai bambini nelle scuole per prevenire alcune patologie e disturbi della bocca, della respirazione, della pronuncia, della postura. In collaborazione con la Onlus POS alcune scuole cittadine hanno attivato progetti di prevenzione per individuare e correggere abitudini e comportamenti che possono alterare lo sviluppo funzionale. L'uso di strumenti come il biberon, come il ciuccio, la suzione del dito che ormai vengono protatti a dittura fino alle scuole elementari sicuramente sono uno dei primi elementi che dà dei danni all'apparato dentario. Successivamente anche l'alimentazione che ormai è caratterizzata da alimenti molto soffici si tende a evitare quella che è una fatica per il bambino, cioè quella di masticare in maniera corretta, oltre ovviamente a delle patologie che possono portare poi respirazioni a bocca aperta come l'epiotrofia delle adenoidi, delle tonsille, le allergie che danno poi un'altra problematica squisitamente medica e non più culturale come la chiamo io. Ormai è una malattia sociale questa dell'alterazione della deglutizione e delle funzioni della bocca. Vogliamo cercare di sensibilizzare quello che sono le famiglie nella necessità di avere uno screening dei loro figli nel quanto riguarda tutto quello che può essere inerente al campo dontoiatrico. Il progetto di prevenzione degli squilibri orofacciali si incrocia con quello già attivo di educazione alimentare realizzato dalla federazione dei medici pediatri che punta a migliorare le consuetudini nutrizionali dei bambini e a creare consapevolezza nei genitori. Un progetto che prevedeva due incontri l'anno scorso e altri due quest'anno per valutare quanto si riusciva a incidere sulle abitudini alimentari dei bambini indicando delle corrette metodiche sia per quanto riguarda il numero dei pasti durante la giornata sia per quanto riguarda la tipologia dei pasti. Abbiamo già verificato che i nostri interventi rispetto all'anno scorso hanno già modificato alcune abitudini alimentari. i percorsi di prevenzione si iscrivono in una politica di attenzione al benessere dell'infanzia che include l'impegno per la qualità della riflessione scolastica dove si è recuperata la buona pratica dello scodellamento. Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'iniziativa dell'assessorato alla pubblica istruzione nella persona dell'assessore Anna Maria Palmieri per quanto riguarda queste due brillanti iniziative per l'educazione alimentare e per la prevenzione dei disturbi muscoloro-facciali. A tappe coinvolge quasi tutti gli alunni della scuola che sono all'incirca sugli 870. Io sono molto contenta del grande apporto che la comunità scientifica della nostra città rappresentata in questo momento da posto, rappresentata dai medici pediatri, sta dando alla diffusione di una cultura della salute, una cultura alimentare, una cultura preventiva e non medicalizzante, non ospedalizzante per i nostri bambini. La scuola non è soltanto dei bambini che ci stanno dentro, degli insegnanti che si ammazzano di fatica, dei dirigenti, degli operatori e tantomeno degli assessori. La scuola è di tutti perché ospita i nostri figli, i cittadini della nostra città e quindi che la comunità scientifica vi entri, la senta propria e ne faccia il luogo del proprio lavoro, della diffusione e della divulgazione scientifica è una cosa di cui andiamo orgogliosi.